Quando si nasce in un quartiere difficile, cos'è lo sport? Rabbia, agonismo, voglia di vincere. Lo sport è una cosa sola, la voglia di riscatto. Non importa chi sei, cosa fai, ma importa quello che pensi di te stesso. E cosa farai al momento giusto? Nel momento del giudizio. Il momento dell'antena.